In Toscana la prima legge a tutela dei rider. Il Consiglio regionale ha approvato l'atto a maggioranza. Primo firmatario, il presidente Antonio Mazzeo. Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, attività 2020, approvata la relazione. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza. La sicurezza, la formazione, il controllo e la rappresentanza sindacale. La Toscana apre i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta di martedì 25 maggio a larga maggioranza con il voto di assenzione del solo gruppo della Lega. È essenziale dare questo segnale. Sono orgoglioso di essere presidente di una regione che approva una legge che ha queste caratteristiche in un momento in cui l'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità di lavoro, anche in un lavoro che si evolve e che quindi vede la tecnologia farla sempre più da padrone, riesce a dare tutela e maggiori condizioni di sicurezza. Lo abbiamo detto anche in occasione di quel momento drammatico che rimarrà scolpito nella mia vita quando ci siamo trovati di fronte all'ennesimo fatto accaduto in una fabbrica tessile nel comune di Montemurlo che ha spezzato la vita a una giovane ragazza. Ecco, la sicurezza è la condizione essenziale. E noi costruiremo un sistema di leggi e di supporti economici per poter sostenere con ispettori la garanzia e il controllo in materia di sicurezza del lavoro e quella di oggi, la legge è oggi approvata, un'ulteriore tappa in questa sorta di avanguardia che la regione toscana sta avendo proprio nel ammodernamento del suo sistema legislativo ma anche nelle azioni concrete per arrivare a questo obiettivo. Consentitemi di dire che sono orgoglioso e anche un po' emozionato perché il giorno in cui fui eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'Assemblea legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce e oggi dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non ci deve essere un algoritmo come spesso viene rappresentato ma c'è una persona, c'è un lavoratore e come tale deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi a partire da quelli basilari come penso la salute e la sicurezza sul lavoro io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione sia giorno, notte, pioggia o sole e non è così, non è scontato con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico con questa norma che ripeto rientra in queste competenze e che nonostante appunto c'è stata un po' di discussione in commissione ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte e che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro individui come si fa a prevenirli quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori qual è il livello di formazione che deve essere fatto qual è il livello di tutela sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale ma troppo spesso non applicati e non concretizzati in questo tipo di lavoro abbiamo votato a favore abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano a mio avviso deve essere colta in termini molto positivi una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale noi ci siamo astenuti ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne ora se qualcuno deve avere lo stress da consegne sono per esempio i camionisti non certo i rider che devono portare una pizza sui rider va fatta una precisazione perché è doverosa perché anche tanti ragazzi che svolgono questa professione ce lo chiedono la regione toscana con la legge che abbiamo votato oggi non trasforma la figura del rider in un lavoratore subordinato questo è ovviamente un qualcosa che spetta alla normativa nazionale la regione toscana oggi fa soltanto un passo che sia piccolo o grande lo scopriremo col tempo e con i risultati nella tutela della salute e della sicurezza di chi svolge questo lavoro ci ammettiamo un piccolo tassello piccolo nella speranza che sia soltanto il primo a tutelare la salute e la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori rischiosi perché lo sappiamo tutti stanno in mezzo al traffico girano con mezzi leggeri biciclette, motorini corrono perché a volte qualche secondo per loro può determinare la riuscita lavorativa di una giornata quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei rider da un punto di vista del contratto lavorativo restano con il contratto che avevano fino adesso cioè non è che risolviamo il problema continuano a lavorare a cottimo a partita IVA e non certo come lavoratori subordinati Abbiamo votato a favore siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti e anche a fronte di nuove modalità di lavoro quello con piattaforme digitali ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte il governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogeneità ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso da questo punto di vista con la ministra Annunzia Catalfo sono stati gettati i semi per molti di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori sta a questo governo adesso riuscire a portarli avanti il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi l'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani Il Consiglio regionale ha votato a favore della proposta di risoluzione relativa al garante dell'infanzia e dell'adolescenza a seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della garante della regione toscana la dottoressa Bianchi il 2020 è stato sicuramente un anno difficile un anno caratterizzato dalla pandemia ma anche l'anno delle elezioni regionali nonostante tutte queste difficoltà l'attività del garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita è proseguita con la stessa efficacia di sempre anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici importante è stato il contributo che il garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal garante così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati un contributo significativo quello del garante anche per far fronte alle emergenze che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia giudico in termini positivi un lavoro complesso quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani che sono coloro che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia un anno complesso, difficile noi chiediamo di fare misure importanti ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che mediante delle leggi si possano istituire in Toscana anche delle luoghe di incontro delle opportunità di ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro cioè la relazione, il feedback, le iniziative di carattere culturale credo che sia stato un anno veramente complesso e credo che noi dobbiamo e possiamo fare di più in queste ore stiamo facendo un lavoro straordinario se penso ai tamponi salivari che abbiamo chiesto per i ragazzi, per gli studenti la possibilità di eliminare le mascherine all'aperto alcune attenzioni delle quali i ragazzi hanno effettivamente bisogno si possono e possono fare in questo momento oltre che ovviamente istituire con delle leggi delle opportunità nuove per rilanciare la loro attività e renderli protagonisti dello stesso futuro Il gruppo della Lega, così come ha fatto in Commissione anche in Aula ha votato contro la relazione delle garante per l'infante e l'adolescenza che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso questo perché il garante è oggettivamente una figura debole voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale infatti ci sono soltanto tre funzionari di cui un dirigente altre due figure di cui una facenti compiti di segreteria non è stata ancora conclusa la convenzione con l'istituto degli innocenti che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabile per far funzionare in modo adeguato la figura del garante dell'infanzia quindi manca il personale non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza una relazione che sostanzialmente è molto didascalica piena di buone intenzioni ma quello che vogliamo per la Toscana sono fatti concreti e di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi lo valuto in maniera pessima una relazione che arriva con due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge una relazione che è tutto tranne che una relazione la dottoressa Bianchi anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la Regione Toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato quali obiettivi ha centrato ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona quindi è andato deserto e a fronte di appunto ripeto 80.000 euro investiti nella sua persona ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà che lavora da sola senza il supporto della Regione e tra l'altro mettendo anche gettando anche una cattiva luce sulla Regione Toscana quando in realtà la Regione Toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi due persone in questo momento l'infanzia e dico anche l'adolescenza è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini dai giovani e dalle loro famiglie l'attenzione al cyberbullismo l'utilizzo delle nuove piattaforme le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate e credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso con la tutela che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori ma anche noi come istituzioni non soltanto come genitori ma anche noi non soltanto come genitori Grazie per la visione!